a buongiorno officina ma 5 rega vorrei aprire un piccolo come si dice dialogo con voi sulla sicurezza stradale perché perché quello che vi farò vedere al di là che ormai sono sporche perché l'ho messa dentro una bacinera c'era un po d'olio ma vi faccio vedere la qualità delle pastiglie di un camper rega un camper che ci è venuto a trovare per cambiare ci segue sui social ci ha conosciuto e troverà devo cambiare le pastiglie anteriore sento che quando freno gratta dice ora vengo giù da lontano però le voglio fare da te perché ti voglio conoscere insomma rega è venuto questo rega questi freni ci ha fatto più di 80 chilometri da roma ma io non me soffermerei sugli 80 chilometri per carità del dio rega io ringrazierò sempre che ci è venuto a trovare però sulla sicurezza di un camper ragazzi dove i suoi freni erano in queste condizioni guardate ragazzi guardate i freni poi lasciate perdere io l'ho messo qui dentro ragazzi perché abbiamo fatto lo spurgo e freni guardate guardate state a capire che ma un camper ragazzi guardate mancano i pezzi rega guardate questo lasciate sta che sono unte che l'ho unte io dentro vedete l'ho messo qui dentro mo le smaltiamo guardate guardate in che condizione questa si chiama sicurezza stradale cioè quando andate dal riparatore di fiducia o magari ecco avete questi questi mezzi che sono fermi per tanto tempo presso le autorimesse quando le prendete andate a pan check up perché questo camper mi ha raccontato il cliente che era uscito 2000 chilometri da una ufficina che gli ha fatto il tagliando adesso no questa qua prendeva partito andava in vacanza andava al camposanto non vacanza allora fateci attenzione ma io parlo sia agli autoriparatori che ai clienti quando un mezzo sta fermo un anno due anni non state lì a vedere come stanno prendete cambiate rega perché la sicurezza non ha né un valore economico e né un valore come si dice non ha valore non ha valore ecco non mi fate di altre cose non ha valore perché qua vi fate male con queste pasticche e pastiglie sennò per un panico i costi freni rega vi fate male tanto e fate male all'altro quindi mi raccomando la sicurezza è importante quindi a a